Care amiche e cari amici di Overgine tu pesci, eccoci giunti al video dedicato alla sessualità della bilancia. Ed è un argomento erotico, questo abbastanza complesso. Procediamo per punti. Innanzitutto quando parliamo di erotismo della bilancia dobbiamo innanzitutto tenere presente che si tratta di un segno d'aria doppio. Ora io qua inevitabilmente sorvolerò su alcune cose, voi potete approfondire nei libri e in altri video a teatro, qui basta dire che la doppiezza della bilancia è tutta espressa dal fatto che da un punto di vista astrologico è governata sia da Venere che da Saturno. Quindi da una parte su un piatto di questa bilancia abbiamo Venere ovviamente simbolo d'amore e di tutte quelle bellezze e dolcezze della parte più diciamo gioiosa dell'amore e dall'altro abbiamo Saturno che simbolicamente scusate governa anche il Capricorno e qui di leggero abbiamo ben poco in quest'altro piatto della bilancia. Questa dualità la tocca immediatamente con mano colui o con lei che si trova coinvolto in un flert, in una relazione, insomma in una roba conquistatrice erotica nei confronti della bilancia perché? Perché la vostra bilancino e il vostro bilancino avrete notato che esperto o esperta nel da un lato in un orecchio soffiarvi dei sussurri caldi, passionali, intrisi di desiderio, nell'altro orecchio vi arriveranno contemporaneamente di colpo geli di soffi respingenti. Questa dualità, che potrebbe anche essere considerata schizofrenia ma non è questo il caso, questa dualità è parte integrante dell'erotismo della bilancia, tant'è vero che la sessualità della bilancia e il suo stile amoroso può essere tranquillamente definito come contorto, è uno dei segni più contorti dal punto di vista proprio amoroso ed erotico. Hai voglia, segno d'aria? Ora, l'astrologia quella più altolocata, quella più diciamo seria definisce molto spesso la bilancia come il segno che più di ogni altro è evocato al matrimonio perché in quella fede al dito trova la perfetta condivisione col partner e quindi un equilibrio meraviglioso. Intanto tutti coloro che viviamo una vita di coppia, matrimonio e quant'altro sappiamo che la totale condivisione d'anime col matrimonio, bah, bah, l'equilibrio, bah, sono rari i casi in cui il matrimonio è proprio questa totale condivisione, in quei rari casi 50% delle volte sono coppie che mentono clamorosamente, ma questa è la mia opinione personale. Ora, la bilancia invece è sì fissata col matrimonio, perché è fissata col condividere, questo è vero, ma dissento dall'astrologia tradizionale, me lo posso permettere perché non sono un astrologo, perché la bilancia è fissata con il matrimonio ma degli altri. La bilancia è il segno per eccellenza fissato col tresche, treschette, amori, amori, relazioni eccetera eccetera, col partner di conoscenti, amici e parenti. La bilancia lo fa, lo fa trafiggendosi di dolore perché non può vivere quell'amore in modo totale, ma al tempo stesso è un segno d'aria, quindi vuole la sua libertà e il marito la moglie rimane a casa del rispettivo coniuge in questo conflitto contorto. Ma qui entriamo nella sfera emotiva e la bilancia, non qui abbiamo da parlare di sesso. Ma questa è una premessa importante perché già il fatto stesso che loro sono re e regine dell'ambiguo rapporto tra amante e coniuge, loro vivono sempre in biligo questo rapporto, non può che far parte inevitabilmente del loro proprio profilo erotico e sessuale. Che cosa li attizza? La bellezza. La bilancia è un soggetto, è un esteta selettivo e quindi sceglierà perché non vuole essere scelto e non vuole essere preda ma vuole essere conquistatore e conquistatrice, sceglierà in nome dell'estetica. Il partner per la bilancia deve essere bello o bella. L'occhio, la parte proprio estetica ha la priorità. Questo non c'entra niente con un certo, diciamo, narcisismo, un certo esibizionismo del leone. Qui siamo in un altro universo. Qui siamo nel mondo della bellezza. Tant'è vero che il mito corrispondente è quello di Eros e Psiche, ma qui rimando sempre ad altra sede chi vuole approfondire. Nell'universo bilancia l'amore deve essere bello, il sesso deve essere bello, tutto deve essere elevato in una chiave di bellezza e innanzitutto il partner deve essere bello. Hai voglia quando la bilancia dice, non è vero, io cerco nel partner contenuti, cerco... No, 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 no. Con me non attacca. Sarò schifoso, sarò cinico, sarò quello che volete. La bilancia dei contenuti in amore non gliene sta fregando niente. La bilancia cerca la bellezza e poi, una bellezza che non deve essere solo fisica, ma è tutto un corredo di bellezza affinché lei possa sublimare tutto questo amore in una chiave estetica bella. Infatti, il pericolo dietro l'angolo di certe bilance è che, a forza di sublimare, si scollino completamente dalla realtà delle cose e vivano l'amore, nonché l'eros in chiave, un tantino eccessivamente platonico o platonica ed escono pazze completamente. Ora, a proposito di bellezza, personalmente diffidate dalle bilance che scelgono un partner clamorosamente brutto. Io non voglio sembrare crudele, spietato, perché è ovvio che la bellezza non è quell'estetica e la bellezza un'altra, ma la bilancia è fatta così. Se la bilancia sceglie un partner clamorosamente brutto, o abbiamo una mappa astrale che veramente rinnega tutti i valori bilancia e si va a completare per altri motivi, e ben venga perché la sola bellezza annoia, oppure quella bilancina sta effettuando un gigantesco sabotaggio, oppure ancora sta mirando ad altri interessi. La bilancia che sceglie un partner non esteticamente bello, gatta cicova. E quindi, o c'è di mezzo un sabotaggio, mi ripeto, oppure, perché la bilancia e tutto questo viene considerata il segno sempre diplomatico, il segno che sa scendere a compromesso, il segno comprensivo... mmm, 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 la bilancia sembra corretta e tanto paracula, la bilancia sembra comprensiva, in realtà giunge a compromesso quando questo compromesso rientra nei suoi più totali interessi. Mi dicevo, non basta solamente essere belli fuori, non basta superare l'esame estetico della vostra bilancia e dire sì, quello o quella mattizza. Tutto attorno deve essere bello, quindi voi che volete conquistare la vostra bilancia e il vostro bilancino state ben attenti, perché quel ristorante, quel luogo, casa vostra, tutto deve essere molto curato, l'ambiente molto raffinato, quell'oggetto di design, quella nuance, quella luce, quella delicatezza, quell'odore. La bilancia è fissata con gli odori, la bilancia aborre gli odori naturali del corpo che per esempio fanno impazzire un ariete o uno scorpione. Ecco quell'odore appena usciti alla palestra, la bilancia proprio, oddio, la bilancia va del retro Satana. Così come l'odore in casa, il profumo, deve esserci un profumo in casa e vostro, curato, artefatto ma non troppo perché altrimenti si cade nel cattivo gusto e quindi deve essere quel profumo sufficientemente artefatto ma non di cattivo gusto, sofisticato. Ecco, superato tutto sto pacchetto di bellezze, di contro bellezze che devono ambire all'altra bellezza, prima o poi vi troverete a spingere oltre il vostro rapporto con la vostra bilancia. E a questo punto che fare? Quello. Ma non proprio quello, perché con la bilancia essendo contorta anche quello è un po' particolare. In che senso? Innanzitutto non spogliateli in modo brutale. Sia mai un raptus di passionalità di quelle arietine, leonine. No! Voi dovete essere al tempo stesso intrisi di desiderio ma delicati al tempo stesso. Ma non di quella delicatezza che nasce alla sensibilità che pretende il cancro. È una delicatezza estetica. È di cattivo gusto strappar le vesti di dosso, no? C'è anche un glamour nello spogliarsi. Una volta che sarete a letto ricordatevi però che alla bilancia le cose zozze piacciono eccome. Ma devono essere zozze in un certo modo. Quindi per esempio casualmente possono scorrere sul video della vostra camera da letto, su un televisore delle immagini di un film hard. Però hard non volgare, non quelle cose hard, hard. Un hard che abbia un senso artico. Un nudo artistico. Loro sono quelli del nudo. La scopata artistica. Ecco, l'ho detta proprio brutale. E ricordatevi i specchi. Perché la bilancia adora una camera da letto con uno o due grandi specchi dove potersi rispecchiare durante la... mentre fate quello che dovete fare. E scoprirete questo aspetto della bilancia che tende persino nell'immagine proiettata nello specchio a trasporre la scopata. Diventa una sorta di film estetico. E' una roba di pazzi di manicomio. Comunque, il fatto qual è? Che ci sono soggetti che una volta usciti da quel letto dopo una, due, tre, quattro... Non sanno se hanno fatto sesso o no. Quelli sono i casi... quando capiti con la bilancia, quella super, non sai... Ma ho fatto sesso veramente o è stata una sublimazione estetica del sesso? Perché loro sono capaci di scopare... di fare sesso per tutta la notte e l'indomani mattina è come se fosse stata una teoria estetica del sesso. Infatti, perdonatemi il parallelismo, sembra che salto da un argomento all'altro ma spero ci sia un filo conduttore, un senso nelle mie parole, infatti sono il re dei flirt. Voi potete andare a letto per anni, potete essere amanti da anni, potete anche essere sposati da anni, per la bilancia il rapporto rimane un flirt e come tale lo cataloga, libera di svolazzare quando vuole ma al tempo stesso inchiodata ad una relazione in modo osmotico perché loro, la conflittualità di cui un'apertura, loro da un lato cercano la libertà e dall'altro contemporaneamente l'osmosi, uno stile contorto e psicopatico. Ora, qual è la zona erogena, dato che siamo arrivati in camera da letto, qual è la parte, insomma, il fondo schiena, proprio la parte bassa della schiena, nonché il sedere. Se voi siete giunti in quella fase, perché attenti non vi permettete mezza confidenza con la bilancia se la bilancia non vi ha dato il benestare, è peggio della vergine, vi arriva una sberla che rintronate, quando vi è stata data carta bianca, allora il sedere è un luogo da 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 da. Questa volta anche con un po' meno di delicatezza, ovvero sempre con delicatezza e deleganza, però la bilancia desidera, cioè il sedere è una roba che che gli piace, che gli piace alquanto. Dopo tutto ciò, quando la vostra relazione sarà sbocciata, vi auguro felicemente cosa accadrà? Sessualmente tutto, tutto può accadere di tutto, tutto può essere portato in un piano totalmente estetico e distaccato, potete ritrovarvi in un vero e proprio set hard, ma di quelli sopraffini, di quelli super raffinati. Allora, sintetizzo tutto per quello che è l'excursus erotico e sentimentale di una bilancia nella vita di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot è una bilancia doc, emblema e simbolo di bellezza, la quale è stata attrice, ma è stata anche indefessa animalista, la quale è stata sposata quattro volte con tre tentati suicidi e il quarto marito è un politico francese, un personaggio abbastanza controverso che di per sé sembrerebbe incarnare l'opposto di tutto ciò per cui lei ha lottato invece negli ultimi anni. Quindi senso e controsenso assoluto. Io spero che non vi siate imbattuti in Brigitte Bardot, o meglio, in una meraviglia come Brigitte Bardot, ma in una bilancina un tantino più equilibrata. Però vorrei concludere con una citazione che di erotico qualcuno potrebbe dire che c'entra col sesso e con l'erotismo. C'entra perché dove c'è serenità c'è anche del bel sesso. Una delle citazioni più belle, una delle frasi per me più belle in assoluto mai scritte e pronunciate è quella della bilancia Italo Calvino. E quando la bilancia è geniale e consegna una perla del genere è meravigliosa. E quindi nel vostro letto e fuori dal letto, bilancine e non bilancini, ricordiamoci queste parole della bilancia Italo Calvino. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, leggerezza è planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Io vi saluto, vi aspetto a teatro, vi bacio, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo appuntamento erotico con lo Scorpione. Niente. Ciao. Grazie.